La menopausa, falsi miti, nuova realtà è l'argomento trattato ieri nel corso di un incontro che si è tenuto nei locali del club nautico di Gela. L'iniziativa presentata dalla giornalista Fabiola Polara è stata promossa da diversi club service della città. Attento e partecipe il pubblico presente. Qual è il giusto approccio psicologico con un periodo delicato, forse il più delicato, nella vita di una donna? Sì, oggi registriamo un aumento della fragilità femminile rispetto a questo tempo naturale della vita di una donna, in ragione del fatto che ci sono tanti modelli che spingono a tutti i costi verso un ideale di salute, di benessere a tutti i costi, di forma fisica e questo porta molto la donna a confliggere con se stessa, quasi a non accettare questo tempo naturale. Allora l'intervento psicologico si inserisce ad un livello intanto di prevenzione perché questa conflittualità inizia già prima, inizia intorno ai 40-45 anni e poi in termini preventivi attraverso incontri come questo che danno anche le coordinate per leggere un periodo così delicato e quindi per aiutare le donne ad aiutarsi e nello stesso tempo a percorrere delle strade di autoaiuto guidato anche da altre figure specialistiche che possono giovare a una migliore gestione della multifattorialità della menopausa. Qual è l'approccio corretto per affrontare in maniera serena questo momento? Intanto è l'incontro, l'incontro con le donne perché non è facile che le donne si rivolgano al ginecologo in quanto la menopausa è un tabù, un tabù nel senso che è vista come un evento fisiologico, quale lo è, ma in cui non c'è bisogno dell'intervento del medico, questo non è vero, anzi c'è bisogno di un'equip di professionisti tra cui il psicologo, il ginecologo, il medico di base e tanti altri. È importante che la donna prenda coscienza di questa fase della sua vita che è molto importante perché la donna del terzo millennio in manopausa non è come la donna del secondo millennio. Il primo approccio è proprio dovuto a noi come medico di famiglia, infatti i primi disturbi vengono avvisati con le famose caldane oppure anche un mal di pancia o dolore alla schiena che naturalmente questo propende per diversi fattori, noi abbiamo il climaterio prima della menopausa che comincia due o tre anni prima, poi comincia la menopausa, la mancanza di mestruazione che porta secondo me due importanti malattie nel postmenopausa, l'osteoporosi nella donna in menopausa e l'ipertensione arteriosa, naturalmente cercando e vedendo se ci sono anche altre malattie che possono essere l'ipotiroidismo, il diabete eccetera eccetera, ma principalmente le prime due che ho detto.